Dove va? Sono atteso ad un simposio Ma che simposio? Oggi c'è una lezione importantissima Quella sulle parolacce Le parolacce? Ma cosa mi servono? Io a te ne la devo corteggiare, non insultare Il coatto appena apre bocca le dice comunque Interessante Il torpilogio è inteso come intercalare Come fossero delle frasi idiomatiche Ecco, qui c'è un po' di queste parolacce idiomatiche Con quale cominciamo? Beh, inizialmente opterei Per un semplice ma vaffanculo Questa sembra facile In realtà è difficile Piena di insidie Vabbè, proviamo Prego Ma vaffanculo L'insulto va lanciato Ma vaffanculo Questa fa una semina Vaffanculo Ma ti regoriandoli Allora, lei gioca a tennis? Sì Quando deve rispingere un servizio molto potente Cosa fa? Cosa faccio? Per rispondere Cosa fa? Allora, lei carica il braccio Partendo dal basso verso l'alto Così Flettendo le gambe E lanciando un insulto Con tutta la forza che ha Prego Ma vaffanculo Più convinto Ma vaffanculo Non ci siamo Ma vaffanculo Ma che mi fai rovescio? Ma che stava Wimbledon? Il tennis è una metafora Ma vaffanculo Percezione Grazie.